Siamo con Luca Pacini, allenatore della squadra Agriapogola. Ciao Luca. Sera a voi. Allora, una partita che siete riusciti a passare in vantaggio, poi cosa è successo? Siete andati sotto di 6 gol sul 6-1, avete avuto una piccola ripresa, però non siete riusciti più ad entrare in gara. Sì, abbiamo avuto subito uno scatto con il buon Castorina che fa sempre il suo dovere, però poi la giornata storta si è vista, subito una traversa, per noi sarebbe stato il 2-0 e poi l'altra squadra è uscita bene perché comunque ha degli ottimi elementi. Noi purtroppo oggi non si sa perché, anche se qualcosa in testa ce l'ho, però siamo calati molto e purtroppo una giornata storta si può incappare. Secondo te cosa è successo? La scorsa partita siete riusciti a battere la Sparchiosi, ora incappate in questa sconfitta e inaspettata sulla carta. Gli motivi possono essere che avete sottovalutato l'avversario? No, no, assolutamente no, ma neanche sottovalutato perché l'altra squadra ha degli ottimi elementi e non li conosciamo da oggi ma già li abbiamo visti giocare nel torneo scorso. Comunque gente sempre di un'ottima categoria. Oggi siamo stati diciamo noi che purtroppo abbiamo giocato al di sotto le nostre prestazioni, ma ci può stare assolutamente. Noi alla fine ci siamo divertiti lo stesso e quindi andremo avanti così. Comunque sconfitta e in dolore guardando la classifica, ma c'è una nota in particolare in negativo che ha caratterizzato questa sconfitta? Per esempio un ottimo fortiere come Gatano Romano non ha fatto degli interventi eccelsi. No, no, assolutamente. Noi abbiamo giocato tutti quanti al di sotto delle nostre potenzialità. L'unico rammarico è che purtroppo lasciamo un ottimo amico andare via con un piccolo cruccio nel cuore che spero che glielo faremo passare con la prossima settimana e lui ovviamente ci seguirà. Quindi sperate infatti in Castorina che ritrovi la vostra squadra magari in finale? Sicuramente, quando se riuscirà a tornare, se avrà la voglia, comunque gli auguro di no perché vorrei che rimanesse là sopra per fare giustamente il suo proseguo. Però noi andremo avanti e poi se lui vorrà ci potrà dare una mano. Ringraziamo Luca Pacini, linea allo studio.